Ciao a tutti, ogni persona compare nella nostra vita quando ne abbiamo bisogno, né positiva né negativa. Ogni esperienza che ci capita, da un punto di vista sentimentale, affettivo ad esempio, ma anche da altri punti di vista, in qualche modo l'abbiamo prodotta noi. L'abbiamo prodotta attraverso le nostre azioni. Nulla capita di cui non abbiamo messo i semi, quindi dobbiamo preoccuparci non tanto di quello che riceviamo, ma di quello che facciamo, perché quello che facciamo determinerà quello che poi riceveremo in un ciclo continuo, senza fine praticamente. E quindi dobbiamo tenere presente che quando ci capita una situazione, una persona, ci innamoriamo di qualcuno, è perché abbiamo bisogno di questo tipo di esperienza, eventualmente per superarla. Se una persona ci fa vivere l'abbandono, eventualmente abbiamo bisogno di superare la paura dell'abbandono. Se una persona ci fa vivere un'altra situazione, è perché abbiamo bisogno di questo. Quindi non dobbiamo lamentarci delle cose che ci capitano. Primo perché ne siamo noi gli artefici, secondo perché quell'esperienza lì ci deve insegnare qualcosa. E allora dobbiamo prendere l'insegnamento e da quell'insegnamento lì possiamo andare avanti, possiamo ottenere risultati anche molto positivi. Però dobbiamo impegnarci nel saper discernere, saper cogliere, saper imparare, perché ogni lezione non imparata si ripresenterà e dovremmo riviverla tante volte fin quando riusciremo a superarla. Bene, per questo video è tutto. Seguimi anche sulla pagina Instagram Massimo Taramasco e iscriviti al canale. Iscriviti anche al mio nuovo canale Felicità Benessere di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti! Ciao a tutti!